Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Powerplay, secondo episodio della stagione, sempre con i miei abbonati. Fortunati di oggi sono Zocca e Johnny, i quali, come vedete, hanno pochi punti, ma mi aiutano a portare avanti questa season. Chissà a quanti punti arriveremo a fine season, vedremo, vedremo, solamente il futuro ce lo può dire. E al momento, come avete visto dal video precedente, che ho tiltato, siamo a 96 punti, non a 99, perché un fottuto Brock si è messo, sapendo che la partita era persa, andrà a pushare la nostra cassa a random e a togliermi il più 3. Lasciamo perdere. E ora andiamo su questa mappa qua, che è Foot Brawl, Post Haste si dovrebbe chiamare, anzi Triple Dribble, credo. E ragazzi, cosa possiamo giocare? Io direi Poco Double Tank. Poco Double Tank, ragazzi, andiamo aggressivi. Ovviamente, a uno di loro faccio mettere Jackie. E all'altro faccio mettere... Rosa. Andiamo così, ragazzi. Io faccio il ruolo del Poco, perché Poco deve essere molto, molto attivo e curare bene. Voglio curare bene, quindi andiamo con la prima partita. Speriamo di trovare, comunque, non delle Bea contro. Cheat? Cheat? No, ok. Fortunatamente non mi ha trovato Bea, però abbiamo Iris che abbastanza counter dai tank, eh. Me la dovrò cercare di giocare bene. Ovviamente cura tattica all'inizio, perché va data sempre. Passa giro con il trick, perché a me piace passarla sempre così, guys. Let's go, Fall Guys. Io direi Fall Guys all'azione. Fall Guys all'azione. E ragazzi, il nuovo meta è solo Poco Doppio Tank. Ragazzi, hanno nerfato Mr. P, hanno nerfato Gale, hanno nerfato Surge. Nel competitive vedrete solo e solamente queste comp di nuovo. Ragazzi, alla Supercell non piace che il gioco sia schillato. Sfortunatamente il meta ritornerà ad essere Poco Doppio Tank. Io non, non, solamente l'idea mi viene da vomitare a pensare all'idea di questo meta. Ma sfortunatamente, cioè, mi rendete conto che hanno visto che i tre Blower più sbloccati erano Gale, Mr. P e Surge. E allora, cosa fanno come bilanciamento? Nerfano solo quei tre. Che ragionamento è, ragazzi? Ma dopo tre anni di gioco non capite ancora che i bilanciamenti non vanno fatti così. Non l'avete ancora capito, ragazzi. No, non l'avete ancora capito. Cioè, volete che adesso il permaban diventi poco? Per favore, rendete questo gioco un pochino... Ecco, a parte che io non so fare i passaggi come si deve. Fatto sta che, ragazzi, vedete, le partite volano con questa comp. Siamo a tre minuti di registrazione. Tre minuti di registrazione. Tre fottuti minuti di registrazione e abbiamo vinto due partite con, per di più, la win epica. Ma che schifo è diventato sto gioco, ragazzi. Io lo voglio un minimo schillato, usare Piper. Usare Colt nel competitive. Non si può usare perché non è un brawler... Ma competitive! Grazie mille a Nonno Cecio. Apparirai nel video perché questa musica non è sotto copyright. Grazie mille dell'abbonamento perché, sì, ragazzi, anche mentre registro questo video, ovviamente, sono in live sul canale Viola. Io vi consiglio di passarci. Primo link di iscrizione. E, mi raccomando, se avete Twitch Prime, potete abbonarvi in modo gratuito al mio canale, ricevendo anche la mia amicizia su Brawl. Ovviamente non mi metto a leggere il messaggio dell'abbonamento perché mi sta dando del kebabbaro. I miei abbonati mi odiano. Di nuovo, non mi viene sto passaggio, porco. Vabbè, ragazzi. Che dire. Che dire. Che dire. Non si può registrare un video... Cioè, non si può monetizzare neanche più il video adesso. Siamo a 4 minuti. Ora, andiamo su Brawl Ball perché, ovviamente, ragazzi, noi dobbiamo raggiungergli gli 8 minuti. Almeno 8 minuti di registrazione, raga. Qua bisogna fatturare. Che dite, fatturiamo o no? Andiamo su Brawl Ball, utilizzo Mortis e ora, ragazzi, io vi faccio... Sto pensando se usare quel gadget perché prima l'ho usato. Lo uso, lo uso. Dopo, magari, al massimo lo cambiamo. E ora vi mostrerò delle faville. Faccio vedere come si usa Mortis. Che Sanji può compaire con Maurice. Allora, siamo con un altro Maurice, di nome Blackfire. Però, vi mostro che, ovviamente... Allora, raga, io odio una cosa. Che quando dascio non posso usare il mio fottuto gadget. È una cosa che non sopporto e ora devo cercare di sistemare. Vedete? Io l'avevo cliccato ma ho ancora 3 gadget e questo mi dà fastidio. Perché avrei potuto fare un dash in più che mi avrebbe fatto ricaricare i pipistrelli. Allora, facciamo così. Gadget. Vedete? Ora me l'ho usato, ok? Io l'ho detto che Sanji può accompagnare solo. Perfetto. Easy tripla, guys. Ad occhi chiusi. Me la potresti passare un po' prima, vero Johnny? Vero zocca. Vero zocca che me la potevi passare prima. Marcia, Theo. Andiamo. Andiamo, guys. Kill tattica. Ce la fa, vero? Sì. Ams, ragazzi, la countero stra facilmente. Devo solamente avvicinarmi. Gadget. Devo scappare via ora. Ho un altro gadget e noi siamo ancora a zero pari, eh. Di sicuro non voglio perderla. Perché quella torretta beccava a me che ero nell'erba? Ok, aspettiamo che termini la ulti. Dai. Io l'ho detto che Sanji può accompagnare solo. Io l'ho detto. Sto scherzando, ragazzi. Amo Sanji. È un mio grande amico. Lo saluto. E magari ogni tanto ritorniamo con le collaborazioni insieme. Ok. Qua muorro, sfortunatamente. Però mi manca una hit ai pipistrelli, guys. E dopo si fanno le faville. Il fatto sta che abbiamo preso gol. Allora, ho 30 secondi per ribaltare la partita. Ce la faccio? Sì? No? Ora vedremo. Ora vedremo. Perché io ho una hit, ragazzi, mi faccio i pipistrelli. Il problema? No. Ho voluto esagerare, ma non avendo la ulti. Let's go! Ok. Per di più, mi manca solamente una hit ai pipistrelli. Ma che giocatore l'ho fatto? Do a hit. Allora. Ma i miei abbonati? Ma che fanno? Ma che fanno i miei abbonati? No. Non va bene. Ne facciamo un altro. Andiamo. Andiamo. Ultima partita del video, guys. Poi vi saluto. E allora. 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 Ci abbiamo Bea. Che fa abbastanza male. Pam pure. Tanto Bea verrà lo scudo. No. Bea non è maxato. Non ho voluto sprecare il gadget. Perché sarei morto comunque. Sto sprecando più il gadget. Metti il piscio per favore Johnny. Metti il piscio Johnny. Io non capisco perché tutti si dimetano il piscio. Spero che non ce l'abbia a sto punto. Grazie mille a Gold. Che si riabbona per il secondo mese. Ben ritornato, fratello. Grazie mille. Allora. Qua ho fatto una bella giocata e mi sono fatto la doppia. Ok. In teoria Johnny non ha il piscio perché mi ha sparato. Bellissima questa collaborazione di squadra. Passami. No. GG. Buono. Buono. Andiamo. Allora mi devo... Ora posso usare almeno una volta il gadget. Che dite? No. Per una hit. Per una hit. Di sicuro non voglio perdere anche questa partita. Non voglio perderla. Ho detto che non voglio perderla. Non voglio perderla. Dai. Stabea che spam auto e mi mi becca. Dio bono. Mi sarei fatto un'altra doppia. Dio bono. Ok. Proseguiamo. Proseguiamo. Allora. Una hit ha i pipistrelli. Utilizzo gadget. Ok. Zero zone ha i shuriken. 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 È il nome della pam ragazzi. Non sto dicendo cosa a caso. Zero zone ha i shuriken nei commenti. Zero zone ha i shuriken. Ok. And that's a zero zone ha i shuriken. Vedete che è difficile ragazzi fare i dash da telefono. Soprattutto quelli orizzontali. Fatto sta che è terminata la partita. MVP. Guardate quanto è bella questa lingua ragazzi. Che quando fate star play vi scrive. MVP. P. Ci sta un botto. Il video termina qua ragazzi. Iscrivetevi al canale se vi fosse piaciuto. Lasciate like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.